Prende un altro calcio di punizione e poi perde la testa un po' al Brasile, un grosso! E indovinate un po' per chi? Sotto la doccia per il bevelo. Non puoi prendere la testa così, non può anche il bevelo. Se l'ha visto da prima, aveva dato una comitata a smedio e a spalla lontana, qui se non sbaglio, prima commette il ballo e poi lo calpista. Eccolo là. Ma come si fa? Ma come si fa? Ma come si fa? Un gioco di questi livelli deve tenere queste emozioni, questa aggressività e forse non è un giocatore aggressivo.